Bella ragazzi io sono Valerio e io sono Francesco e oggi ci cimenteremo a disegnare delle cose infatti come vedete abbiamo dei fogli e delle matite e due telecamere e due telecamere ci vedete lì e ci vedete lì forse e quindi disegneremo dei personaggi questo primo episodio che sarà su cinque personaggi sono cinque personaggi due personaggi da cinque minuti avremo cinque minuti per disegnarli e copiando e copiando quindi avremo un terzo telefono dove copieremo l'immagine e avremo cinque minuti allora primo personaggio abbiamo deciso essenziale di prendere il signor Goku in forma ultra stinta no no in forma normale proprio la più base del mondo l'immagine è questa si vede anche abbastanza bene quindi non lo dobbiamo mettere in post per disegnare? Allora 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 Grazie a tutti Grazie a tutti La tua faccia assomiglia più Ma guarda è un cavaleonte È un Pikachu Dobbiamo disegnare anche Pikachu Ragazzi nel prossimo episodio disegniamo Pikachu È un mostro Ma è un mostro È un nano Rimangono 30 secondi No non è possibile Finito Manco no Finito Basta Finito il tempo Non ci manca la coda da me No ma no Vabbè non è già facile Io nella parte che mi sono concentrato di meno Guarda L'ho fatta meglio L'orecchio Così sono Ma guarda I due disegni Così Ragazzi secondo me ha vinto E che non funziona Qui ci sono le schede Decidete che ha vinto Ok Ora ne faremo un altro Solo che questa volta Andiamo a prendere Giofi Un altro personaggio Quindi Nel prossimo video ragazzi Che sarà sempre del disegno Questo Cambieremo le Le situazioni Cioè metteremo almeno 5 minuti Perché Non è possibile Va Non è che ci sono troppe cose Messe una sopra l'altro Ma Luffy Quanto mai ha avuto tutte queste cose Ok Guarda che cappello Non è possibile Un ubriacone Ci ha fatto la panza Non è possibile Ma poi non hai buchini qua Scusa Cioè i bottoni Dalla parte E i buchini Ma io li faccio Guarda dai Questo non mi sta venendo proprio male Cioè mi aspetta un mostro di peggio Ecco questo si Cioè mi aspetta un mostro di peggio Perché è molto grande Perché è molto grande Quanto manca 6 secondi 4 3 2 1 Stop Ah Cioè il cappello che un po' gli tende Questo non mi ha mai Il cappello enorme Però vabbè Votate anche questi Guardate Questo Votate il 3 E poi intimo il 2 Perché io Io voglio il 2 Mi piace Questi 2 Ok E basta Per oggi Vi ho finito Quindi abbiamo questi 2 disegni Rispetto di firmo Abbiamo questi 2 disegni Ah tu li fatti in un Allora ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Dateci fiducia Dateci fiducia Noi porteremo delle cose interessanti Sempre sul disegno Durante il periodo natalizio Anche altre cose Porteremo Anche altre cose Un video che soprattutto Avete richiesto Che se vuoi scollerare il titolo Cos'è una Vabbè È una top Facciamo questo Vabbè Noi stiamo parlando nessuno Perché a questo minuto del video Non è necessario Nessuno Vabbè Chi ci è arrivato Allora Se siete arrivati qua Commentate con Carciofo Carciofo Vabbè Con carciofo Quindi Vi diamo appuntamento Ad un prossimo video Del disegno E non Andate sul nostro canale Ok Se già ci siete però Potevate sulla pagina Facebook Nel nostro sito E niente Fatevo le volete Ciao Ciao